buongiorno ragazzi continuiamo ad iscriverci al canale fate iscrivere i vostri amici interisti al canale di chiesonerati lo si può fare solo ed esclusivamente gratis cliccando su iscriviti ed attivando la campanellina quindi inviate il link del canale sui vostri gruppi whatsapp telegram chat ovunque la nostra crescita non dipende solamente da noi ma dipende anche da voi siete voi che decidete tra l'altro ritornando al reverendo che sono felicissimo che dica che optri rimane per tanti anni vuol dire che ormai è certificato che è una toccata e fuga solo lui può mischiare fare un frullato tra un'operazione di m e i ovverosia mergers and acquisitions ovvero quello che lui diciamo stava vendendo eh tipo la l'entrata di pinco ne hanno parlato tutti i giornali mondiali ma anche di pif e degli arabi ne hanno parlato tutti i giornali mondiali quindi quando fa comodo a te i sole 24 ore è serio i giornali sono seri quando non fa comodo a te ti ritrovi a leggere tutto sport se c'è qualche notizia e ti fa comodo per quelli che hai ipnotizzato perché dopo la messa mattutina dei venti trenta minuti passa la passa la perpetua con il vassoino a raccogliere le offerte dei tuoi seguaci che non si capisce come ancora possono dare soldi dopo tutte le puttanate che hai detto io è quello io cioè io io vorrei aiutare quelle povere persone capire perché danno soldi per farsi prendere in giro perché non ne becchi una te altro è scantinato poi ora un giorno farò un video dedicato al mio scantinato e vedremo poi dopo questo scantinato se è peggio del tuo cucinotto togliete gli bollitore dell'acqua quello lì che gli fa male tutta quella roba che beve io non la mangio la pasta ogni pane scureggione la mangi te che ogni tanto nei video si sente fare è inutile cerchi di imboscare il suono io lo sento comunque a parte questo la la fake news di dago spia e sta facendo preoccupare tantissimi tifosi dell'inter il cambio di proprietà non è che è regolare regolarissimo tra l'altro voglio aprire una parentesi noi oggi sì che siamo in sicurezza non lo eravamo prima ad oggi siamo non è che siamo in una botta di ferra a livello economico finanziario ma di più anche se occlino gestirà l'inter per lui a lungo termine come vi sta dicendo il reverendo anzi è l'incontrario o 3 dovrà fare quei passaggi prima di cedere la società ai sauditi comunque lion rock non è affatto uscito quando è stato elagito il prestito a steven zang ma semplicemente dato impegno le quote perché le quote di lion rock erano impegno sia la glass trust che altri quindi sparano fake news non non c'è niente di regolare il passaggio di proprietà altri è non regolare di più e non sapete nemmeno che non sono usciti lion rock è sempre stata lì ha dato solo ed esclusivamente le quote impegno ora tutti questi fuori classe si svegliano sull'importanza delle controllanti quello che a me rallegra quello che a me fa felice oltre il fatto che ora sono tranquillo con altri non lo ero affatto con zang e che tutte queste questo scatolame cinese controllanti lussemburgo o tri farà pulito e poi dopo scederà niente perché tutte queste scatole che pegni contropegni è il loro modo di fare finanza il modo cinese di fare finanza non solo di proteggere soprattutto i beni di non farseli attaccare per quello aveva messo pegno contropegno pegno di qua pegno di là ma alla fine della fiera questo giochino è finito perché a livello finanziario noi stavamo crollando noi eravamo alla frutta con zang a livello finanziario oltre il fatto di essere sempre nel merino con un presidente del genere perché ripeto questa proprietà ha giocato sull'ignoranza non di tutti fortunatamente ma di molti tifosi dell'inter che non riuscivano a guardare oltre la palla che entrava in rete se voi fate caso all'atteggiamento di marotta è finito il regime cinese è finita la non comunicazione è finita quella robaccia lì e ora si torna a parlare perché marotta sta tornando a parlare sta lanciando le frecciatine noi siamo a posto non vi preoccupate mentre prima non parlava nessuno e vedrete che torneremo a parlare sempre di più e vedrete che poi la comunicazione sarà al centro del progetto insieme agli investimenti non con altri ma del prossimo proprietario dell'inter quindi io sono molto fiducioso non mi aspetto un grandissimo mercato ma non mi aspetto nemmeno di vendere per cento di acquistare per 10 mi aspetto di vendere faccio un esempio per cento di acquistare per 80 90 almeno si parla di cessione di qualche giovane si parla del ritorno di pinamonti lautaro te ci devi dire cosa vuoi fare perché le storie le finiscono tutto a un inizio e tutta una fine noi questo noi tifosi dell'inter lo sappiamo benissimo giocatori presidenti passano l'inter rimane sempre nel nostro cuore ma se chiedi 12 milioni è una maniera gentile per dirte per dirci che te ne vuoi andare lautaro 12 milioni l'inter non te ne può non te li può dare se parliamo di 8 9 ho presi bonus ci possiamo arrivare ma soprattutto in questa fase transitoria non ti possiamo dare 12 milioni lautaro anche perché poi se no vengono tutti a bussare e noi bisogna stare attenti con gli gaggi c'è ancora quel rapporto gaggi fatturato dove bisogna stare attenti soprattutto noi quindi non date retta a quelli di ozzia e secondo me no che secondo me che scrive la gospia perché non è uscita lion rock lion rock è sempre stata lì e ha dato le vuote impegno quindi non è uscita da dopo il prestito e questo ti fa capire di quanto sono informati per quello riguarda parrucca conte a napoli io lo dissi da quando andò via dall'inter secondo me l'inter era l'ultimo suo top club perché anche un allenatore che gioca un calcio vecchio un calcio un calcio prevedibile e ha bisogno di determinati interpreti per fare qualcosa di buono se lui va a napoli e si porta a lucacolo detto ieri gli manca innanzitutto pintus che ti tira a lucido lucacu gli manca brozovic gli manca a chimi che ti che gli portava sulla palla gli mancano degli interpreti che a napoli non ha quindi prevedo un altro buco nell'acqua io conte a napoli con tutto rispetto ai tifosi napoletani senza offesa ma conte e lucacu a napoli sinceramente non mi fanno paura per nulla ciao mitte